In apertura all'atteso evento del pomeriggio all'Aquila con il tradizionale corteo della bolla da Piazza Palazzo fino alla Basilica di Colle Maggio per la 730esima perdonanza celestiniana, evento che sarà seguito in diretta da Rete8 con i nostri inviati Carmine Perantuono, Daniela Rosone, Enrico Giancarli e il contributo del giornalista e scrittore Angelo De Nicola. Noi abbiamo davanti alla Basilica a Colle Maggio, se non andiamo errati, la nostra Daniela Rosone che ci racconta questi momenti di grande attesa. A te Daniela. Sì Luca, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Rete8, con me Don Renzo D'Ascenso. Come giustamente ricordavi noi ci troviamo proprio qui a Colle Maggio con la nostra postazione per seguire poi dalle 15.30 tutta la diretta del nostro direttore Carmine Perantuono con Angelo De Nicola e Enrico Giancarli. Alle nostre spalle c'è la Porta Santa, un'edizione numero 730, il momento clou dopo il corteo storico che è la parte più folcloristica che partirà alle 16, c'è la Santa Messa e l'apertura della Porta Santa. Quest'anno sarà il Cardinale Petrocchi che saluterà così anche la sua comunità ad aprirla. Un messaggio ancora più importante in questa perdonanza Luca perché la perdonanza 730 si incrocia con quello che sarà poi il grande giubileo romano tant'è che dopo la lettura da parte del sindaco della Bolla il Cardinale Petrocchi leggerà anche il passo contenuto nel documento di indizione del grande giubileo in cui viene citato Celestino V. Con noi, lo dicevo prima, c'è Don Renzo D'Ascenso, nostro ospite fisso, ovviamente per una riflessione sul messaggio perché la perdonanza è tanto, Don Renzo, è folclore con il corteo ma c'è soprattutto la parte religiosa e spirituale. Ecco, qual è davvero oggi attuale il messaggio di Celestino V? Innanzitutto un saluto. Io vorrei farvi capire, così con i miei poveri mezzi, qual è il messaggio centrale di un cristiano e il messaggio centrale di Papa Celestino. È molto molto importante se vogliamo vivere felici ed essere contenti. A ciascuno di noi il Buon Dio ha affidato il mistero della presenza del Signore affinché sia visibile nel mondo attraverso i secoli, attraverso la storia. Quindi noi dobbiamo essere presenti. Chi vede un cristiano veramente maturo deve vedere qualcosa di speciale, deve vedere la rappresentazione del mistero di Dio. E allora, perché noi possiamo essere veramente degni di ciò, dobbiamo praticare il perdono. Senza il perdono l'uomo è sfigurato perché il perdono rende l'uomo asproce, lo rende vendicativo, lo rende pieno di odio e quando dentro di noi albergano queste passioni, queste pulsioni, l'uomo diventa aggressivo. E da tutto ciò nascono le guerre, nascono tra le famiglie, tra gli amici, sempre difficoltà incredibili. E allora che cos'è il perdono? Facciamo un esempio. Noi siamo come un canale attraverso il quale deve passare la grazia di Dio attraverso il mondo, attraverso le persone che noi incontriamo. Dobbiamo, perché la grazia di Dio possa passare, tenere pulito questo canale. E il canale sarà pulito solo se noi sappiamo perdonare. Se io non fossi certo del perdono di Dio, io sarei una persona triste, infelice. Quando sbaglio non vado in crisi, dico il Signore mi perdona, ti ringrazio Signore. E a sua volta il perdono, il Signore cosa fa? Impara anche tu a perdonare. Il perdono rende le comunità piene di calore umano, solidali, sorridenti. Laddove non c'è il perdono non c'è pace all'interno delle famiglie, all'interno dei partiti politici, delle nazioni. Vediamo tutto quello che sta succedendo. E Celestino, se potesse veramente dirci, parlarci, ci direbbe Chi non perdona non ha capito nulla della vita, perché il più grande mistero di Cristo è la sua misericordia, cioè il perdono. Dio ci perdona sempre, dice San Paolo. Laddove abbonda il peccato, sovrabbonda il perdono, cioè la grazia di Dio. Quindi siamo solidali con il nostro grande Santo Celestino, che ha intuito questo mistero profondo. E poi, se noi ci relazioniamo con il Signore, lo ci purifica completamente e diventiamo esseri buoni, esseri amati dagli altri. Perché tutti quanti abbiamo un solo bisogno, sentirci amati per amare. Questo è il compito, a mio avviso, della perdonanza. Ecco, grazie Torrenzo per questo contributo, quella è la vera essenza della perdonanza. Luca, se è tutto ok, io ti rilascerei la linea, ringraziando però i tecnici che stanno permettendo anche dall'Aquila tutto questo. Quindi Lino Lallone, Alberto Capo, Donatello Ricci, che poi sarà impegnato anche nella nostra lunga diretta, e Gigi Benedetti. Se non hai altre domande o curiosità, io ti restituirei la linea. Tanto ci rivediamo dopo per questo bel pomeriggio dall'Aquila.